Ginevra Lamborghini è diventata già il personaggio più in vista del GF VIP7 grazie ai suoi meraviglioso exploache. Dopo la seconda puntata il kick-off dei nuovi concorrenti ha raggiunto subito nuove vette. Ma cosa avrà mai combinato la sorella di Elettra nella casa più spiata d'Italia? E perché mai sul web ormai la adorano praticamente tutti? Leggi anche, GF VIP, Elettra Lamborghini scappa dal gossip della sorella Ginevra, dove si trovava mentre andava in onda la seconda puntata. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella casa del GF VIP Ginevra Lamborghini ha toccato già vette altissime a partire dalla sua passione per i massaggi ai piedi dei coinquilini. ha cominciato rivolgendosi a Nikita e chiedendole, lo vuoi un massaggio ai piedi? Non sono feticista ma per te posso fare un'eccezione. Massaggio che poi ha effettivamente fatto a Charlie utilizzando l'olio d'oliva per aiutarsi. Ma questo è niente, Ginevra ha cominciato a distribuire anche pacche sul sedere ai coinquilini come se non ci fosse un domani, prima a Nikita. Poi ad Edoardo mentre quest'ultimo stava tranquillamente giocando a biliardo. Così, di botto e a tradimento. Anzi, a dirla tutta, la sorella di Elettra ha dimostrato di essere la prima concorrente di questa nuova edizione sensibile all'alcol. La ragazza ha infatti alzato un po' il gomito durante la serata. Sarà stato questo a darle la spinta per dare spettacolo? Non lo sappiamo, sebbene quando arrivata in camera da letto è riuscita a farsi notare ancora una volta mettendosi a fare il twerk sul letto, un riferimento a sua sorella o soltanto voglia di divertirsi e di far divertire i telespettatori. Fotocredits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolcine in Italia. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.